Parliamo oggi del narcisista appezzottato. Sì, appezzottato. Accominciamo. Questa ispirazione mi è venuta ieri durante una live. Dovete sapere che ovviamente il tema del narcisista è un tema che mi affascina parecchio e quindi mi piace quando scopro sempre cose nuove su un narcisista. Ho scoperto che ci sono due tipi di narcisista, ma non lo so se ne sono di più, però io personalmente ne conosco due. Uno è il narcisista, quello the big one, diciamo che è il narcisista alfa, che in realtà si chiama Gamma, ma comunque è il narcisista proprio per eccellenza. Chi è il narcisista, ragazzi? Allora, diciamo, il narcisista o la narcisista, perché per carità sia uomo che donne, non è che facciamo distinzione di genere, il narcisista è quella persona che si reputa al di sopra di tutti, una persona anaffettiva, una persona che cerca sempre di denigrarti, una persona che cerca di avere il controllo su di te, una persona che reputa che la sua vita sia sempre più importante di tutti, no? E che cosa fa il narcisista? Cerca di isolarti da tutti perché ha così, diciamo, campo libero per poterti manipolare al meglio, perché è ovvio che se ci sta un'amica, un genitore, qualsiasi persona che ti sta vicino e vede che cosa sta combinando, ti fa aprire gli occhi, invece lui da solo riesce ad agire per il meglio. Questo tipo di narcisista riesce anche ad avere storie lunghe, perché voglio dire, perlomeno è coerente, cioè è un narcisista che l'è, cioè lui è superiore a tutti e va avanti così per tutta la vita, no? Anche avendo delle relazioni lunghe, è comunque un narcisista che nel suo comportamento ha un comportamento abbastanza logico, se così vogliamo dire. Cioè nel senso che ti denigra tutti i giorni, che cerca di farti sentire sbagliato tutti i giorni, che ti toglie gli amici da torno, però ha un senso la sua storia. Magari è pure gelosissimo, no? Nel senso che ti vuole tutto per lui, però ha un filo logico nel suo comportamento. Poi abbiamo il narcisista covert, che sarebbe il narcisista appezzottato, cioè è molto semplice. Allora il problema del narcisista appezzottato qual è? È che lui si scontra, no? Molte volte con il suo essere, con la realtà. Mi spiego meglio. Allora, lui diciamo che è stato cresciuto, che lui pensa nella sua testa di essere superiore a tutti e si comporta così. Però quando è da solo, è consapevole che non è veramente come lui crede di essere. Questo fatto lo manda in crisi. Nel pratico, che cosa succede? Succede che il narcisista appezzottato è quello che vi manda letteralmente in confusione, perché è quello più pericoloso. Perché se il narcisista normale, perlomeno ha una sua metodologia, questo qua non vi fa capire niente, perché è quella tipica persona che vi chiama una settimana la persona più bella del mondo, no? La persona che vi ama, ma poi bella e buona, sparisce. È quella persona che dice che vuole con voi una famiglia, poi all'improvviso non è sicuro se ti amo. Differenza con il narcisista normale, che il narcisista vuole stare con voi, no? E perlomeno, anche se all'inizio pure lui fa questo love bobbing, cioè vi fa questo bombardamento d'amore, poi piano piano se ne scende e vi tratta male, però vi tratta male un poco alla volta tutti i giorni, comunque sta là, no? Invece il narcisista appezzottato vi manda letteralmente in confusione, perché adesso è una persona che vi dà sicurezza, dopo neanche un minuto è una persona che scompare totalmente. Questo perché? Perché lui si rende conto che non è all'altezza di poter manipolarvi, che non è all'altezza di denigrarvi, perché lui si sente meno di voi. Fondamentalmente è una persona molto, ma molto insicura, come abbiamo visto, quindi è una persona che fa fatica veramente a rapportarsi alle persone. Colgo l'occasione per dire pure una cosa importante, ragazzi, che il narcisista non è che si nasce, il narcisista si diventa, e purtroppo chi è che fa diventare narcisista? Narcisista, noi genitori. Mi metto pure in mezzo perché sono genitori, al momento non credo di avere figli narcisisti, o perlomeno tento di non farlo, però come si creano questi benedetti figli narcisisti, questi uomini che poi sono narcisisti? Ci sono vari modi, ma diciamo che io ne ho semplificati due. Ovviamente ricordiamoci sempre che non sono una psicologa, che questo non è il mio campo, che questo non è la mia professione, non sono semplicemente le mie esperienze, le mie curiosità, la mia cultura personale. Allora, come si diventa narcisista? Quando si ha una famiglia che o è troppo o è poco. In che senso? Quando c'è una famiglia che vi crea delle aspettative altissime. Quindi una famiglia dove dice tu sei il più bravo di tutti, tu sei il più intelligente di tutti, tu puoi fare sempre più di tutto, tu sei bravissimo, tu sei il più bello del mondo, no? Questa cosa fa sì che il narcisista vive e cresce con la consapevolezza che lui è il più bravo del mondo, il più bello del mondo, il più simpatico del mondo. Quando si scontra con la realtà e magari vede che non è così, va in crisi. E inizia così questo suo aspetto narcisista. In caso contrario, invece, quando una famiglia svaluta il proprio figlio, quando gli dice tu non sei abbastanza, magari quel ragazzo ha pure preso otto, per fare un esempio, in una materia, e poi lui dice no, tu puoi fare di più. Quindi questo senso di non essere mai abbastanza, questo senso di essere sbagliato, questo senso di dover sempre accontentare i genitori, questo senso di riuscire in qualche modo a conquistarsi l'affetto, fa sì che lui, come dire, va ad affrontare questo suo malessere in un altro modo. E come? Cercando di avere controllo sulle persone, una cosa che lui non ha mai avuto. Quindi ognuno reagisce in un modo, diciamo molto personale. Prima cosa, ragazzi, perché è vero che bisogna riconoscere i narcisisti, ma bisogna anche prevenire i narcisisti, che è la cosa più importante, perché una volta che ci si è decaduto, ma nei piedi, diventa veramente difficile starci insieme, ma soprattutto è difficile lasciarlo. C'è da dire che il narcisismo è una patologia, che si può guarire, ma il problema è che proprio il narcisista è l'ultima persona che sa di essere narcisista, proprio per questo suo ego smisurato, no? Perché se lui capisse, magari con una terapia, con una curva, potrebbe anche, diciamo, uscire fuori da questa cosa. Purtroppo non è così. Allora, come prevenire e accorgersi che si ha a che fare con un narcisista? Allora, ragazze, per quanto voi siete donne splendide e donne meravigliose, quando vi approcciate un uomo e quest'uomo, sul 1, 2, 3 stella, incomincia a farvi complimenti spropositati, incomincia a darvi tutte queste attenzioni, che è una cosa bellissima per carità, dovete farvi un punto di domanda, perché vedete, avviene così, conoscenza, complimenti, conoscenza, complimenti, non ci possono essere complimenti, a volte anche così profondi, senza la conoscenza, che vuol dire che sono basati su nulla, quindi vuol dire che questi complimenti sono fatti per colpire e non per corteggiare, o perché si conosce la persona. Secondo punto, vediamo sempre quando parla delle sue ex e dei suoi amici, ok? è una persona che tendenzialmente tende a non assumersi nessuna colpa, quindi mi sono lasciato con quello perché non è buono, i miei amici non sono buoni, non amici di lunga data, perché chi lo scopre, gli fatana, poi lo abbandona. Quindi questa cosa è molto importante, vedere come è il suo, diciamo, stato attuale, delle sue amicizie e come è il suo rapporto con le relazioni precedenti. Ragazzi, è poi la gelosia, cioè dovete stare attenti. molte volte noi donne ci lo singhiamo che un uomo è geloso perché è un uomo che ci ama. Dipende e bisogna capire fino a che punto è una sana gelosia di una persona che è geloso perché ti trova estremamente bella e quindi magari ha paura che un uomo ti guardi o è un uomo che è geloso e quindi limita la tua vita perché tra la gelosia perché si ama e tra la possessività perché si ha paura che quella persona possa andarsene con qualcun'altra e quindi rendere quella vita di quella persona ai limiti del vivibile è tutta un'altra situazione. Non accettiamo, non giustifichiamo questo tipo di gelosia perché questo tipo di gelosia non è gelosia, non è amore. Questo tipo di gelosia è rapporto tossico, è insicurezza e ricordatevi che a voi non siete nati né crocerossini né siete nati badanti e soprattutto ricordatevi che la vostra vita non vale meno di nessuno. È importante prima come importante e dopo non vi dovete fare incorporare da un uomo semplicemente dovete aggiungere alla vostra vita un'altra vita la conoscenza di un'altra vita senza per questo però annullare quelle che sono stati finora le vostre passioni i vostri sogni le vostre abitudini. E poi un'altra cosa ragazzi ve lo dico veramente col cuore una persona che oggi c'è e domani non c'è non è perché impegnato non è perché confuso non è perché ha avuto una relazione tragica e quindi adesso sta combattendo con se stesso no no perché è un narcisista appazzuttata ok perché se voi interessate a una persona quella persona muoverà mari e monti per stare insieme a voi se è una persona che oggi c'è e domani non c'è aspettate lasciatelo andare e vedete che succede perché le persone così come si dice il buongiorno siete dal mattino se già una persona all'inizio di una relazione dove ci dovrebbe essere amore ci dovrebbe essere passione già si comporta in questo modo vuol dire che i presupposti già non vanno bene e se la base non è equilibrata se la base già è traballante questa casa fatta d'amore ma come la volete costruire? pensateci buona vita grazie a tutti